Una tavola rotonda questa mattina a Palazzo Baronale a Torre del Greco per parlare della salute della donna. Focus in particolare su prevenzione, diagnosi e cura del tumore della mammella. Un'iniziativa fortemente voluta dall'assessore Anarita Ottaviano e dalla consigliera con delega al benessere cittadino Carmela Pomposo. Oggi siamo qui proprio per comunicare alla cittadinanza che prevenire è meglio che curare. C'è un incontro con psichiatra, psicologo, senologo e anche testimonianze. Noi donne ma anche gli uomini tutti dobbiamo fare prevenzione ma la prevenzione deve partire anche dalle scuole perché oggi si parla di tumore, di tumore al seno ma il tumore in genere è legato agli stili di vita quindi incominciare dalle scuole a far capire ai giovani gli stili di vita, la dieta mediterranea, lo sport e tutto ciò che praticamente fa sì che possiamo vivere sani in un corpo sano e quindi siamo qui proprio per divulgare questo messaggio, un messaggio di sensibilizzazione e di prevenzione. È fondamentale trasmettere a tutti cosa si può fare prendendo in tempo questo mostro, definiamolo mostro. Quindi è il nostro compito, il compito del politico, il nostro compito e il nostro dovere è quello di trasmettere a tutti cosa si può fare se si riesce a prendere in tempo questa malattia. Medici ed esperti a confronto per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione. È fondamentale che la prevenzione è la prima forma, la prima arma che abbiamo contro la lotta contro il cancro e come diciamo oggi l'informazione è fondamentale sulla base dei dati che sono stati poi ritrovati all'interno del sistema passi, cioè il sistema di sorveglianza, il sistema sanitario nazionale in cui si evince che in campagna purtroppo si sopravvive un po' meno rispetto a tutto il resto del territorio nazionale. Se la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi su tutto il territorio nazionale rientra intorno all'87,7% mentre invece in campagna purtroppo siamo intorno all'83% quindi perdiamo 5 punti percentuali così come anche all'interno delle restanti regioni del sud e una delle motivazioni principali è proprio quella che viene fatta una diagnosi troppo in ritardo. Profonda e significativa la testimonianza di Imma Sorrentino che ha personalmente affrontato e vinto questa battaglia. Sono qui per dare una testimonianza positiva contro il cancro al seno. Io sono insomma una guerriera come voi chiamate di questa battaglia, ho vinto e invito tutte voi a non perdervi mai d'animo a combattere, a crederci sempre che in fondo al tunnel c'è la luce e a credere soprattutto che l'amore ci salverà da questo brutto male. Vogliamoci bene, diamoci forza e sicuramente con la volontà e con le cure mediche se ne può uscire fuori.